Musica In studio Viviana Sammito Buonasera ancora, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTG In apertura c'è la cronaca, parliamo del delitto di Peppe Lucifore, il cuoco modicano ucciso il 10 novembre dello scorso anno perché il suo grande amico e confidente padre Giovanni Stracquadagno ha reso delle dichiarazioni alla stampa nei giorni scorsi come sapete la nostra emittente, i nostri microfoni ma come già noi avevamo anche anticipato proprio ieri è stato sentito come da lui stesso richiesto dalla procura nella sede della caserma dei carabinieri di Modica Facciamo il punto nel servizio di Marco Scavino Cosa si è emerso non si conosce ma padre Giovanni Stracquadagno, parroco della chiesa di San Giorgio è stato riascoltato ieri all'interno della caserma dei carabinieri di Modica Il prete modicano è stato riascoltato come detto nella caserma dei carabinieri di Modica alla presenza del procuratore Fabio Danna e del sostituto procuratore Francesco Riccio Il parroco della chiesa di San Giorgio non ha mai fatto mistero del fatto che dietro all'omicidio di Peppe ci potesse essere solo ed esclusivamente un movente passionale Per padre Stracquadagno c'era altro Diceva anche di non conoscere Corallo e di non volersi esprimere sul suo coinvolgimento Per Stracquadagno sostanzialmente si doveva e si deve scavare più a fondo Non può essere solo una questione legata alla sfera passionale ma potrebbe esserci altro Soldi, droga che avrebbero portato la mano dell'assassino ad agire Padre Stracquadagno oggi come ieri però è chiuso nel silenzio Un silenzio dettato anche dallo stupore e dalla totale sorpresa in senso negativo nel leggere e ascoltare le parole della famiglia Lucifora I familiari di Peppe ieri avevano scritto una lettera dove tra l'altro facevano riferimento al fatto che potesse essere proprio padre Giovanni il custode del testamento di Peppe Lucifora Stracquadagno però aveva evidenziato che quelle erano falsità Se lo avesse avuto lui il testamento che senso avrebbe avuto lanciare l'allarme della presenza e dell'esistenza del documento Oltretutto raccontava sino a qualche giorno fa il parroco lui prima dei funerali di Peppe aveva detto ai familiari che Lucifora aveva fatto testamento nel 2014 Perché la famiglia abbia scritto quelle frasi è incomprensibile per il prete modicano che ha solo l'interesse, ha rimarcato più volte qualche giorno fa che sia fatta giustizia e che la verità, quella vera, venga fuori Tanto che ieri il prete della chiesa di San Giorgio è tornato in Nancaserma per riferire quanto da lui conosciuto Non si escludono a questo punto nuovi sviluppi e risvolti 28 migranti positivi al Covid-19 nella nave che in rada a Porto Empedocle che ci aveva accusato di razzismo, oggi si renderà conto che invece avevamo ragione lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci che aveva proposto una nave, la Mobi Zazà che attualmente appunto è in rada nelle acque antistanti Porto Empedocle per la quarantena degli immigrati ce ne parla Giada Giacquinta 28 migranti positivi al Covid-19 sono sulla nave rada a Porto Empedocle soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola senza poterli circoscrivere e controllare lo afferma in un post su Facebook il governatore della Sicilia Nello Musumeci commentando l'esito dei tamponi effettuati sui migranti a bordo della nave quarantena Mobi Zazà oggi si capisce meglio, aggiunge Musumeci, quella nostra richiesta e chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo oggi si renderà conto che avevamo ragione Musumeci inoltre annuncia importanti provvedimenti sanitari al principio della precauzione e dice voglio sperare che nessuno venga in mente di non coinvolgere la regione nelle scelte che dovranno essere assunte ha scritto Musumeci i 28 fanno parte del gruppo di 209 migranti salvati in acqua internazionale dalla nave Sea-Watch e imbarcati sulla nave quarantena Mobi Zazà che inrada al porto Empedocle i tamponi rinofaringiai erano stati effettuati nella mattinata di ieri e meno di 24 ore è arrivato l'esito intanto ieri sera era stato reso noto che uno dei migranti originario del Cameron e sbarcato a porto Empedocle dalla Sea-Watch era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta perché risultato positivo al coronavirus inizialmente l'uomo era stato trasferito nella notte tra sabato e domenica come un caso sospetto di tubercolosi poi sottoposto a tampone per coronavirus l'esame ha dato esito positivo a confermarlo il direttore generale dell'ospedale di Caltanissetta Alessandro Caltagirone così come riporta l'Ansa un altro migrante sarebbe stato ricoverato ed in attesa dell'esito del tampone Continuiamo a parlare di immigrazione e di integrazione della situazione sanitaria all'interno dei centri di accoglienza della zona euro-mediterranea in particolar modo dei porti che rappresentano la porta dell'Europa per gli immigrati che arrivano dall'Africa mi sto riferendo a Pozzallo, Lampedusa, Agrigento quindi anche Porto Empedocle perché proprio ieri la delegazione bicamerale Schengen è arrivata all'hot spot di Pozzallo per un sopralluogo alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna per constatare le condizioni in cui sono accolti gli immigrati la stessa visita che ovviamente ha fatto anche in altri centri della Sicilia ma prima ha tenuto un'audizione di due ore circa nella sede della prefettura Ragusa facciamo il punto in questo servizio Alle mie spalle la delegazione Schengen che è arrivata nel terzo pomeriggio all'hot spot di Pozzallo per discutere dei temi dell'integrazione e dell'immigrazione dopo un confronto in prefettura Ragusa durato due ore l'obiettivo è quello anche di avviare un'indagine conoscitiva proprio in riferimento al fenomeno migratorio nell'area Schengen con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen quindi al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di immigrati e alla tratta di persone la delegazione farà un giro ad ampio raggio nelle zone che sono particolarmente interessate al fenomeno dell'immigrazione come Lampedusa, Grigento e Pozzallo e poi l'obiettivo ultimo è quello di stilare una relazione da presentare al ministro dell'interno Luciana Lamorgese Il ministro dell'interno Lamorgese ha confermato la sua presenza in audizione il 30 giugno prossimo alle 14 a Roma e porteremo le nostre relazioni, quanto abbiamo visto nei nostri sopralluoghi e ascolteremo insomma quello che avrà da dirci poi personalmente sono un po' preoccupato e nella mia veste più personale, non da presidente di questa bicamerale le politiche di questo governo rappresentano un effetto trattore, un pull factor rispetto all'immigrazione, le stiamo leggendo nei rapporti, le leggo sui giornali adesso sono venuto anch'io nella mia veste più personale di deputato a verificare in persona Nel pieno rispetto degli ideali di Giorgio Lapira quali quello dell'accoglienza dell'umanità, dell'altruismo che intende perseguire il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che continua l'accoglienza qui al porto di Pozzallo ma il primo cittadino ha anche proposto alcune richieste in prefetture che riguardano in special modo l'hot spot nella città marinara Io ho evidenziato un paio di cose la prima, l'assoluta mancanza di una funzione all'interno di questo centro da parte del comune di Pozzallo noi non abbiamo un rappresentante e questo centro non può essere un enclave all'interno di un territorio perché il sindaco è massima autorità sanitaria l'altro aspetto è la problematica dell'isola di Malta questa funzione che l'isola ha svolto in questi ultimi mesi bisogna approfondire bene qual è il ruolo di quest'isola mi sono spinto anche se non è competenza mia come sindaco ma noi abbiamo un interscambio umano di merce grandissimo con quest'isola l'altro aspetto, il terzo e l'ultimo aspetto è l'assoluta mancanza di vigili urbani nella nostra città ospiti attualmente all'interno dell'hot spot sono 67 immigrati tra cui i minori, una donna, tutti uomini nessuno finora ha mostrato segni riconducibili al covid-19 sono in buone condizioni di salute e sono obbligati a rispettare la quarantena all'interno del centro sono i primi immigrati arrivati nel post-lockdown selvati dall'ONG Mediterranean Saving Human a 28 miglia da Lampedusa arrivati a Pozzallo sabato nel tardo pomeriggio due fratelli di Paternò sono stati arrestati dai carabinieri per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore agricolo arrestati in flagranza di reato i fratelli Sebastiano e Salvatore Montagno Bozzone rispettivamente di 51 e 43 anni responsabili di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura etnea a procedere all'arresto la vittima è un imprenditore agricolo di Paternò che ha subito numerosi furti, danneggiamenti introduzione abusiva di animali al pascolo con distruzione delle colture denunciando immediatamente i fatti ai carabinieri così come gli atti intimidatori a scopo estorsivo commessi dai fratelli in concorso con un terzo complice al momento ricercato scopo degli estorsori oltre ad ottenere somme di denaro anche la progressiva acquisizione dei terreni della vittima i fratelli tra l'altro acquistavano il controllo del servizio di irrigazione pubblica che poi fornivano agli agricoltori facendosi pagare una tassa imposta di circa 150 euro le indagini dei carabinieri hanno scoperto che l'agricoltore avrebbe più volte trovato bossoli di arma da fuoco o croci di legno appese sui cancelli oltre ad appurare come i montagno bozzone contrassegnavano con vernice blu gli ingressi dei terreni dei proprietari che pagavano il pizzo circa 30 euro a tumulo per una tassa imposta di 4.000 euro se la vittima avesse ceduto agli arrestati un terreno che aveva acquistato precedentemente gli avrebbero fatto lo sconto di 1.500 euro sulla somma estorsiva grazie alla collaborazione dell'imprenditore agricolo con i carabinieri giunti nel casolare dove era atteso l'imprenditore dai fratelli sono subito intervenuti nel momento della consegna del denaro arrestando i due fratelli che adesso si trovano nel carcere di Catania a Bicocca Parliamo adesso della gestione della discarica di Cava dei Modicani a Ragusa perché si è tenuta proprio oggi un'audizione della terza e quarta commissione dell'Assemblea regionale siciliana per comprendere anche i tempi di rilascio delle autorizzazioni che sono prioritarie determinanti ai fini della gestione ordinaria del sito di Cava dei Modicani perché come sapete l'ARPA ha autorizzato ma solo per 120 giorni in maniera esclusiva è urgente una proroga firmata dal commissario del Libero Contorso Comunale di Ragusa per permettere in maniera temporanea ai 12 comuni blei di conferire i rifiuti all'interno del sito ma entro ovviamente questi 120 giorni si attendono le autorizzazioni da parte della regione vediamo il servizio si attende l'ok alla valutazione di impatto ambientale seguita dall'autorizzazione integrata ambientale e da anni quando? quanto prima ha risposto il neocommissario dell'SRR il servizio di regolamentazione per la gestione di rifiuti il sindaco di Ragusa Peppe Cassi il quale ha garantito che è tutti i giorni in stretto contatto con gli uffici regionali per avviare finalmente la stagione ordinaria della gestione di cava dei modicari la nemica numero uno in Sicilia è la burocrazia tra confronti e audizioni alla fine il dato oggettivo emerso è che gli uffici le commissioni energie e territorio ambiente chiedono sempre più integrazioni trascinando le amministrazioni nelle gestioni straordinarie urgenti con l'insopportabile esito che a rimetterci sono sempre i cittadini che pagano tasse esose per il conferimento dei rifiuti fuori provincia ora questo rischio è scongiurato perché l'ARPA ha autorizzato il commissario del libero consorzio a firmare un'ordinanza urgente nella durata di 120 giorni per permettere il conferimento dei rifiuti provenienti dai 12 comuni blei nella discarica di cava dei modicani a Ragusa entro questo termine la regione deve permettere al libero consorzio di gestire la discarica in via definitiva con strumenti ordinari così da permettere anche una programmazione a lungo termine oggi l'audizione della terza e quarta commissione dell'assemblea regionale siciliana su impulso dei deputati regionali Orazio Raguta e Stefania Campo durante la quale l'attuale commissario e l'ex Cassieggia Quinta e il commissario del libro contorzio piazza hanno chiesto tempi certi acceleri responsabile della struttura tecnica dell'assessorato regionale all'energia Giancarlo Arnone in assenza dell'assessore Piero Bond che non ha partecipato all'audizione per problemi familiari la nostra provincia necessita di recuperare il gap infrastrutturale anche in questo ambito ha commentato la CGL che si era fatta promotrice dell'incontro l'ex provincia tra sindaci perché ci sono i progetti in grado di realizzare un sistema modello fortemente ancora tra ruolo del pubblico con grandi risultati sotto il profilo ambientale per fare tutto questo serve l'appoggio finanziario della regione Sicilia e una visione di insieme coerente da parte dei comuni sit-in dei lavoratori delle menze hanno ricevuto solo la cassa integrazione per il mese di marzo e non hanno ancora risposte sul loro futuro sentiamo Sara Don Giuso Sono davvero preoccupati i lavoratori e le lavoratrici del settore delle menze e delle pulizie scolastiche e aziendali questa mattina un sit-in davanti la sede della prefettura l'obiettivo è quello di trovare soluzioni concrete per la continuità occupazionale e reddituale a tutti questi lavoratori perché gli ultimi soldi li hanno visti con la cassa integrazione di marzo dopo non è arrivato più nulla e adesso non si hanno certezze neanche per il futuro perché avendo questi lavoratori usufruito interamente la cassa integrazione con non causale covid rimarranno senza copertura salariale stessa cosa per le menze aziendali che anche a causa dell'organizzazione delle committenti che utilizzano lo smart working stentano a ripartire noi come lavoratori delle menze universitarie abbiamo ricevuto la cassa integrazione di marzo ancora non è arrivato nessun credito ai miei colleghi e a me di aprile quindi siamo legati alla situazione di apertura forse a settembre ma non si sa se la menza universitaria apre a settembre poi siamo scoperti della FIS perché no la copertura ce l'abbiamo fino al 31 di maggio non si sa se lo Stato allunga questa cassa integrazione anche se l'azienda ha la possibilità di chiedere le quattro settimane di settembre e prolungare almeno la copertura fino a giugno ma fino ad oggi non è successo non è arrivata nessuna comunicazione anzi una comunicazione l'abbiamo ricevuto quella che l'azienda ha detto che se non c'è la cassa integrazione che lo Stato dà siamo sospesi quindi quattro mesi senza percepire uno stipendio Signora oltre a quello delle menze scolastiche universitarie c'è il problema anche delle menze aziendali perché si va in smart working e quindi non c'è più bisogno di questo servizio con voi che rimanete a casa giusto proprio per lo smart working praticamente noi restiamo a casa siamo in cassa integrazione da marzo non abbiamo visto un centesimo da allora le aziende ci aiutano come posso l'anticipo della tredicesima della quattordicesima però insomma soldi non ne abbiamo visti ancora dalla cassa integrazione e aspettiamo che ritornano queste persone dallo smart working per poter lavorare perché siamo fermi completamente lunghe code sotto il sole coccente numeri di telefono che non funzionano ai quali non risponde nessuno sono alcune delle lamentali denunciate dai catanesi che attendono davanti alla sede delle aspe per poter fare il vaccino ai figli o anche una semplice visita le loro denunce ai nostri microfoni è impossibile prenotare per fare il vaccino ai propri figli e dunque si creano file lunghe davanti le sedi territoriali dell'asp etnea a denunciarlo sono proprio i cittadini esasperati perché arrivano qui alle 6 e mezza alle 7 del mattino per mettersi in lista perché poi solo un certo numero di persone può entrare la mattina e quindi se si arriva troppo tardi si corre il rischio di non poter vaccinare i propri figli c'è poi un problema legato al centro di prenotazione i numeri di telefono che non sempre funzionano che non sempre sono attivi ci hanno detto i stessi cittadini che è stato loro dichiarato che i numeri presenti sul sito sono sbagliati e dunque è un altro servizio che non viene erogato insomma c'è tanta rabbia e tanta esasperazione proprio nelle mamme nei papà ma nelle persone in generale che devono usufruire dei servizi e l'asp signora i numeri di telefono pare non funzionano e ci sono lunghe file ci sono lunghe file i numeri di telefono non funzionano io oggi ho provato a chiamare ed hanno sempre occupato e la cosa che mi fa arrabbiare è che una città civile come dovrebbe essere Catania non può permettere ai cittadini che sono soprattutto bambini e anziani che vengono a farsi dei vaccini a fare file interminabili sotto il sole adesso ci saranno 40 gradi e ad aspettare qui stamattina sono venute delle persone alle 6 meno un quarto per prendere il numero e stanno qui fino alle 8 e mezza poi ritornano e vanno a prendersi il caffè al bar perché cosa possono fare con i bambini piccoli che urlano e gridano secondo me è inammissibile una cosa del genere sarebbe più giusto invece prendere le prenotazioni anche che sono fra due mesi ma io almeno so che arrivo alle 11 di settembre del 22 settembre entro e faccio il vaccino scusate da quanto tempo aspettate? dalle 7 più o meno più o meno sono ora 10 e mezza circa 3 ore 3 ore e mezza circa non siete riusciti a fare una prenotazione telefonica? no come mai? perché abbiamo sempre stato così no non è previsto sempre qua di presenza davanti l'acquallasco direttamente non è prevista la cosa telefonica cioè le più chiame anche a volte non rispondono nemmeno dunque bisogna qua venire presto per prenotarsi per forza è sempre stato così o adesso succede di più? ho sentito da altri che è stato sempre così è uscita alla casa alle 6 e mezza alle 7 sono qua e ho aspetto alla fila non siete riusciti a prenotare telefonicamente? no è venuta così ieri ha visto la pediatra e oggi per fare il vaccino la prima vaccino perché lui sei mesi mi sembrava più civile dare visto che hanno fatto una lista dare un appuntamento a chi ora è arrivata? io alle 7 sono la 23 c'è una breve pausa pubblicitaria torniamo tra pochissimo dopo e in campo sanitario desiderano poter tornare alla normalità anche i futuri genitori dopo le pressioni per dare la possibilità ai papà di poter assistere al parto previo tampone arriva alla sp a ragusa un'altra lettera in cui un'altra coppia di futuri genitori ragusani chiede che la madre della ragazza possa entrare in reparto per assisterla dopo il parto vediamo sarò padre a breve sicuramente nella seconda decade di luglio la mia è una semplice richiesta che faccio a nome di mia moglie sarà il primo genito e come tutte le prime volte questa avventura è accompagnata da un mix di emozioni ma soprattutto preoccupazioni per il durante e per la degenza inizia così la lettera di Gabriele Baglieri futuro padre che affida a poche righe la propria richiesta all'azienda sanitaria di Ragusa anche a nome della moglie per poter permettere alla madre di poter accedere al reparto per fornirle assistenza dal momento che lo ricordiamo a causa delle restrizioni anticontagio l'accesso al reparto è interdetto esterni per motivi di sicurezza il futuro papà esprime le proprie perplessità e lancia un appello in un video inviato alla nostra redazione a nome mio e di tutti coloro si trovano nelle nostre stesse condizioni e ho voluto scrivere due parole all'asp due semplici domande la prima è perché previo tampone un marito non può assistere la moglie durante la fase di travaglio e di parto e viverà pieno questa grande emozione questo grande evento che è unico e irripetibile e perché sempre previo tampone un parente diretto nel caso specifico la suocera o chi per lei non può assistere durante l'agggianza ospedaliera la propria figlia vorremmo delle risposte certe ferme e motivate da parte dell'aspe di Ragusa fermo restando che ci fidiamo totalmente e ciecamente dello splendido personale appena un mese fa l'azienda sanitaria era stato oggetto di pressioni da parte dei futuri genitori per avere la possibilità per i neopapà di vedere il bambino appena nato previo tampone l'asp da allora si è organizzata per far sì che papà potessero accedere ai reparti in via del tutto eccezionale nella fase finale del parto dopo essere risultati negativi ai tamponi parliamo adesso di politica con una nuova crisi all'interno della maggioranza in particolar modo di manumori riguardano due consiglieri Scimonello e Bonincontro che preferiscono hanno chiesto una posizione meno defilata all'interno della maggioranza hanno chiesto anche una maggiore incisività al governo della città soprattutto in tema di programmazione facciamo il punto in questo servizio dall'ingresso in giunta di un partito che non ha espressione in consiglio comunale alla mancanza di coinvolgimento nelle scelte e infine le numerose incompiute di questi tre anni e mezzo di amministrazione Giannone certo alla base di tutto però c'è una profonda stima nei confronti del sindaco una stima che tiene ancora legate alla maggioranza ma il malcontento è cresciuto ed ha radici profonde la lista Enzo Giannone sindaco rappresentata in consiglio comunale da Lorenzo Buonincontro e Guglielmo Scimonello non solo non ha un ruolo in amministrazione ed ha dovuto sopportare silenziosamente l'ingresso di articolo 1 con Emilia Arrabbito Assessore ma anche non viene coinvolta nelle scelte e nella vita politica c'è malcontento per Giannone è la solita routine preestiva e in questo ultimo anno di amministrazione non è escluso fa sapere il sindaco contattato da noi telefonicamente che sia arrivato il momento di lanciare altri nella vita amministrativa altri che magari sino ad ora non hanno avuto un ruolo amministrativo che sia la volta buona per Scimonello o buon incontro non è dato sapersi anche perché Giannone punta ad altro in questi anni dice abbiamo riportato alla normalità amministrativa sciclia adesso è arrivato il momento di riportarla alla normale vita politica il sogno di Giannone è sempre lo stesso ricompattare il centro-sinistra farlo tornare forte e coeso il tentativo di civici e progressisti aveva questo scopo e porterebbe a pensare che il futuro della città non abbia una reale coloritura dice Giannone politica a guidare il progetto sempre Giannone non è chiaro perché si intuisce dalle sue dichiarazioni che la volontà di ricandidarsi c'è ma anche soprattutto dettata da una necessità quale? non ci sarebbe lo si intuisce dalle parole di Giannone alcuno pronto a prendere le redini di questo nuovo percorso politico che si appresta ad iniziare ma lasciando il futuro politico della città che lo stesso Giannone sottolinea ancora prematuro in termini di elaborazione concentriamoci sul presente c'è nuovamente malumore in maggioranza sempre a ridosso dell'estate e sempre per gli stessi motivi ricordiamo che un segnale forte di discontinuità fu dato da cittadini per cicli Vindigni e Mirabella infatti l'anno scorso di questi tempi salutarono Giannone e i suoi che proseguirono con un rimpasto che di rimpasto non ebbe nulla se non eliminare la sostituta di Vindigni un assessore che stette in carica giusto il tempo di consentire a Giannone di formare una nuova squadra consigliare con la sua rivale delle amministrative Rita Trovato e Claudio Caruso del Partito Democratico nasce poi civici e progressisti per portare ordine sinergie e fatti concreti risposte che i cittadini chiedevano a gran voce risposte che chi era all'opposizione e poi passata in maggioranza denunciava come imbarazzanti mancanze incompiute ma i frutti raccolti in un anno non sarebbero lo dicono i fatti quelli tanto sperati durante la semina non è escluso ci possono essere novità nei prossimi giorni un vero e proprio accampamento di nomadi a due passi dal lungomare succede a Catania in una zona incolta che con le alte temperature potrebbe anche diventare pericolosa qui l'anno scorso è scoppiato un brutto incendio che per puro caso non si è trasformato in una tragedia perché in questo terreno vivevano nomadi e si è rischiata la loro vita nuovo anno nuova estate e ancora baracche di nomadi siamo in bianfusa a Catania un vasto terreno incolto è diventato il luogo di costruzione di baracche nessun controllo nessuna tutela nessuna pulizia manca anche l'illuminazione e dunque queste famiglie sono costrette a mezzi di fortuna per fare luce la sera questo può essere un non pericolo per le persone che vi abitano e per quelle che in zona vivono diversi palazzi intorno a riprova che a Catania c'è un'emergenza abitativa e che questa deve essere risolta per queste famiglie e per le tante che aspettano un alloggio e poi serve più controllo soprattutto di notte per tutelare gli abitanti della zona e chi qui vicino transita siamo ridosso il lungomare e soprattutto in questa stagione estiva sono moltissime le persone che in Mianfuso parcheggiano per potersi regalare una passeggiata nel litorale lo spettacolo non è bello e il pericolo è davvero in commenta è stato celebrato ieri pomeriggio il 246esimo anniversario dalla fondazione della guardia di finanza è stata una celebrazione sobria ristretta alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza oltre al colonnello ovviamente Giorgio Salerno il comandante provinciale della guardia di finanza di Ragusa il procuratore capo Fabio Danna il colonnello Salerno ha ringraziato i militari e le famiglie per l'impegno profuso quotidianamente nelle fiamme gialle Sopria e toccante la cerimonia che si è tenuta ieri pomeriggio in Piazza Libertà a Ragusa per commemorare 246 anni dalla fondazione della guardia di finanza in un momento storico che ha messo a dura prova la popolazione militare che sono stati e sono in prima linea nell'emergenza sanitaria la cerimonia in forma ristretta iniziata con la deposizione della corona dall'ora in memoria dei caduti delle fiamme gialle alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza un momento in cui è stato ricordato il sacrificio delle fiamme gialle nella battaglia del solstizio il 21 giugno del 1918 giorno in cui la ricorrenza assume un valore storico e solenne la cerimonia si è spostata sul terrazzo che si affaccia sulla piazza Libertà per la lettura del messaggio del capo dello Stato e dell'ordine del giorno speciale del comandante generale il colonnello Giorgio Salerno comandante provinciale della guardia di finanza ha ringraziato i militari e le famiglie per l'impegno profuso nelle attività di servizio e nella quotidianità quello del colonnello è stato un atto di riconoscimento e gratitudine senza copione perché è espresso con il cuore sono stati consegnati alcuni attestati di merito dal prefetto Cocuz dal procuratore capo Fabio Danna nei primi mesi siamo stati principalmente impegnati per cercare di aiutare la popolazione a rispettare quelle che erano le disposizioni sul contenimento e la limitazione agli spostamenti che è stato un male necessario che abbiamo dovuto gestire abbiamo fatto interventi in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori nell'ambito di quello che erano i dispositivi di protezione mascherine oltre 30.000 mascherine sequestrate igienizzante non a norma ecco diciamo che il nostro intento è stato quello di riuscire a perseguire quei comportamenti di fraudolenti o di approfittamento che purtroppo non sono mancati neanche nel territorio nel territorio ragusano Recentemente la Guardia di Finanza ha concluso un'operazione contro l'assenteismo al consultorio dell'ASP di Vittoria e l'obiettivo è assestare un duro colpo ai reatti della pubblica amministrazione Il nostro impegno sarà quello di far sì che quelle che sono le provvidenze che lo Stato sta mettendo a disposizione lo Stato gli clienti pubblici stanno mettendo a disposizione per sostenere la liquidità di famiglie e aziende possano essere efficacemente utilizzate e che vadano a chi ne ha effettivamente bisogno L'altro aspetto che sicuramente ci vedrà impegnati è quello di continuare a monitorare il tessuto economico per evitare che i proventi illeciti di organizzazioni criminali si possano infiltrare in quello che è una realtà economica e civile di assoluta importanza da lunedì 29 giugno torno nei controlli con l'autovelox a Comiso gli autovelox saranno posizionati in due turni quotidiani su via San Biagio la ex stata statale 115 su via Leonardo Sciascia via Bufalino Biscari e Piave è giusto che la gente sappia dichiarato l'assessore Dante Di Trapani che la finalità principale e unica degli autovelox non è quella di sanzionare i trasgressori ma quella di non avere trasgressori o almeno di ridurli al minimo anche perché i dati degli anni scorsi ci indicano una drastica riduzione degli incidenti stradali grazie proprio al posizionamento degli autovelox è davvero tutto con questa notizia grazie come sempre per averci seguiti fin qui e a tutti voi ancora buona serata